Anche in accelerazione, la libreria sui colori, unica con l'ABS, è una delle quattro proposte per la 600, prezzo base, 11.700 euro. La replica invece è il top alternativo Fireblazer, da 13.9 a 16.300 euro. L'ABS c'era da anni sulle rossa, a tutti i piccoli, c'era di tutto nuovo, il sistema sottiliato, controllato dall'elettronica, è davvero super. L'ABS c'era, arriva a gestire i freni, come parete, il migliore condizioni, nelle migliori condizioni, e in più, questa casa riduzza il rispondimento del retrofremio, stabilizzando anche la moto. Siamo fino in pista. Grazie. 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 Ciao.